Ciao ragazzi, oggi un nuovo video ed è un video specifico per questa nuova linea Avon che sta uscendo per la cura del viso. Allora, questo è il catalogo che ovviamente è a parte e questa è la linea Mission. Ci sono due categorie di prodotti e ora andiamo nello specifico a vederli. Qui ci sono i campioncini della linea Mission Y, sono tre ma in realtà sarebbero quattro, uno mi deve arrivare nel prossimo ordine perché era esaurito. Appunto troviamo la crema, la lozione e il latte. Qui invece la Mission Eclat troviamo appunto tre campioncini, la crema intensiva, il concentrato e il trattamento lozione. Ora andiamo a vedere un attimino cosa c'è. Cosmesi giapponese. Il rituale di bellezza è, allora, detersione con mousse delicata. Per iniziare il rituale di skin care raccomandano l'uso di mousse detergenti subito dopo l'applicazione dello struccante occhi. Quindi, poi vabbè, c'è il passaggio 2, la lozione, il 3 è il latte e poi la crema viso. Questa linea, appunto, Mission Y, è consigliata a partire dai 30 anni, quindi adatta già per me, ormai. È una linea di idratazione profonda, nasce dal lievito fermentato, una preziosa fonte di vitamine, amminoacidi minerali e antiossidanti. L'estratto di lievito contiene amminoacidi che aiutano a mantenere una barriera cutanea vitale, migliorando la sensazione di elasticità e aiutando a ritrovare il naturale luminosità. Quindi, appunto, questa è la linea per i 30 e troviamo questo set, appunto, tutti quanti i prodotti. Li potete avere, se a trattamento completo in quattro fasi, a 162 euro. Appunto, queste sono linee di lusso, tra virgolette, per chi, appunto, vuole spendere per qualcosa di un po' più professionale e comunque un prezzo un pochino più elevato. Ad ogni modo, trovate qui gli altri prezzi. Ci sono, appunto, la mousse delicata detergente, a 35 euro, la lazione ad azione idratante intensiva, a 47 euro, il latte idratante, a 47 euro, e la crema nutriente giorno e notte, a 52 euro. Qui spiega, appunto, come applicare. Dice che il detergente applicarlo ogni mattina e sera dopo lo struccante occhi, massaggiare per fare una schiuma, applicando sulla pelle umida e massaggiando delicatamente, risciacquare con acqua tiepida. La lozione, che va usata dopo, che è densa, si diffonde penetrando nella pelle per idratare le vigale. Mattina e sera tampona qualche goccia sul viso e colla e massaggia con movimenti circolari. Poi, il latte, dice che sempre mattina e sera, dopo la lozione idratante, massaggiare con le dita una piccola quantità di prodotto sul viso e collo. E poi la crema. Poi, troviamo la linea, invece, Missione Clat, che questi sono i campioncini, che è a partire dai 45 anni. È una gamma di cura della pelle per le donne che hanno già cominciato a notare i segni visibili dell'età, come linee e rughe d'espressione profonde, perdita di radiosità, di elasticità e di densità. Una linea perfetta anche per aiutare le donne ad apparire al meglio indipendentemente dall'età. Un complesso di ingredienti con acidi grassi, antiossidanti e amminoacidi, che aiuta a contrastare i segni dell'età, donando nello stesso tempo un aspetto levigato e idratato. Queste ricche formule concentrate e rapido assorbimento regalano l'esperienza di puro lusso alla pelle. Ingredienti distintivi di questa gamma sono Complesso agli estratti di alaria e sculenta, complesso agli estratti di alga, contiene acidi grassi, essenziali, antiossidanti e amminoacidi. Nutrimento concentrato per contribuire a rispondere alle esigenze della pelle matura, nutrimento morbidezza e sensazione dell'esticità. La ricchezza di formule lussuose, cremose e nutrienti, che coccano i tuoi sensi con un'elegante profumazione di rose e muschio delicato. E appunto questa è la linea, 265 euro per tutti e 5 i prodotti, che sono la mousse a 40 euro singolarmente, poi c'è la lozione a 60, l'essenza concentrata a 75, la crema a giorni e notti a 60, la crema avanzata con tornocchi e labbra, con complesso di calendolo officinale a 60 euro. E anche qui spiega appunto come applicare, in ogni modo qui da 1, 2, 3, 4, quello che bisogna fare. Poi qui troviamo invece, di questo non ci sono i campioncini, è una maschera intensiva in gel effervescente da 5 pezzi, 5 ml l'una a 60 euro. E' una maschera all'acido carbonico, ispirato al trattamento spa di lusso, per donare luminosità alla tua pelle anche a casa, contiene pappa reale e strato di soia, contiene acido ialuronico. E anche questo è molto interessante. Quindi queste sono le novità di Avon, e sono molto curiosa di appunto provare questa linea qui per i 30, infatti ho preso i campioncini appunto per provare, e questa qui invece per i 45 la voglio far provare a delle mie clienti, e che poi mi faranno sapere, e se sono interessate comunque ad acquistare. Questa appunto crema e lozione e latte, volevo farla però appena mi arriva anche la mousse, in modo che faccio il trattamento completo e la testo a modo, così poi ve ne posso parlare meglio. Quindi niente, qua era per mostrarvi appunto il catalogo e quant'altro, se avete qualche domanda, volete qualche informazione, scrivetemi qua sotto che vi rispondo. E mettete un bel like al video, e iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi. Vi mando un bacio, e alla prossima, ciao!